Si chiama Codice Rosso ed è la procedura attivata dal commissariato di Fano per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Gli agenti, diretti da Stefano Seretti, hanno proceduto penalmente nei confronti di tre italiani responsabili di atti persecutori, lesioni personali e incendio. Il primo caso riguarda una donna che, dopo aver interrotto la decennale convivenza con il marito, ha iniziato a subire continue minacce, insulti e lesioni anche gravi. La vittima, che si era rifugiata a casa di amici in un'altra regione, era stata rintracciata e raggiunta dall'uomo. Per questo il marito è stato arrestato dai poliziotti fanesi. Nel secondo caso gli agenti hanno proceduto nei confronti di un genitore che non accettava la separazione coniugale del figlio. Aveva iniziato a perseguitare la sua ex consorte con continue minacce, telefonate e messaggi. Era arrivato ad incendiare l'auto del nuovo compagno della donna. Il tribunale ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle due vittime. Anche nel terzo episodio l'autorità giudiziaria ha emesso il divieto di avvicinamento per un uomo che retirava minacce e molessie nei confronti della figlia minorenne e della madre di quest'ultima, anche effettuando pedinamenti. Inoltre il questore ha emesso un ammonimento nei confronti di due stalkers responsabili di continue minacce su altrettante donne. Il provvedimento consiste in un ordine accessare immediatamente i comportamenti molesti, avvisando che in caso contrario si procederà penalmente d'ufficio con l'attivazione del codice rosso. In entrambi i casi, avvenuti a Fano, i due uomini spinti da una irrefrenabile infatuazione non corrisposta hanno commesso pesanti e incessanti intrusioni nella vita privata delle vittime. Si tratta di invidi, messaggi, pedinamenti, appostamenti, nonché di ripetuti tentativi di avvicinamento. Uno di loro era arrivato anche al punto di introdursi furtivamente nell'abitazione della donna. Era stato poi sorpreso e messo in fuga dal padre della vittima. Infine, ieri sera, gli agenti del commissariato di Fano hanno arrestato un 35enne del posto che doveva espiare la pena di due anni e 11 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata. I fatti che risalgono a dieci anni fa riguardano Catello Miotto, ex concorrente del talent show Amici di Maria di Filippi. Il 35enne, accusato di aver stuprato l'ex moglie di un suo amico dopo diversi gradi di giudizio, è stato colpito da un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte di Appello di Roma.